Ok, allora, oggi vi presento questo strumento che si chiama Mozilla Thimble e lo useremo per introdurre la programmazione web, cioè come si realizzano le pagine HTML che si fanno oggi, cioè quelle moderne, usando HTML5. Dunque, Thimble è un buono strumento, insieme a quello parleremo anche proprio della sintassi, di come si fanno le pagine, dell'HTML, eccetera, eccetera. Allora, la prima cosa è, iniziamo dall'HTML. Che cos'è l'HTML? Beh, innanzitutto HTML significa Hypertext Markup Language, cioè è un linguaggio di marcatura per elementi ipertestuali. Le caratteristiche sono, chiaramente è un markup, e adesso poi andremo a vedere che cosa vuol dire un markup, è fatto a tag, e poi vedremo come funzionano i tag, è strutturato, perché bisogna rispettare un determinato schema perché le cose funzionino come dovrebbero, è semantico, cioè ci permette di definire determinate aree di testo o comunque di zone in maniera che abbiano un significato non soltanto come layout grafico, ma anche, non so, possiamo definire qual è l'articolo principale della pagina, oppure il titolo più importante che c'è nel testo, in maniera che anche, non so, i motori di ricerca sappiano che cosa indicizzare e che cosa saltare. L'HTML è fatto così. Allora, la struttura di un tag, come è fatta? Il tag inizia sempre con minore, il tasto minore, che dovresti avere a fianco al tasto Z, a sinistra dello Z, ce l'avete tutti perché alcune tastiere ce ne andano da un'altra parte. Poi, subito appiccicato al carattere minore, metteremo il nome del tag. Con il nome del tag intendo proprio alcuni dei tag che poi vi farò vedere. Attenzione che tra il minore iniziale e il nome del tag non ci devono essere spazi, deve essere appiccicato. Poi, un tag HTML può avere da zero a più attributi. Gli attributi si scrivono dopo il nome del tag con uno spazio, si mette nome dell'attributo uguale, aperte le virgolette e si mettono i valori dell'attributo. Potete metterne quanti ne volete che sono supporti dal tag e si mettono tutti sempre spazio, attributo 2, spazio, attributo 3. Quando ho finito di definire il tag, lo chiudo con maggiore. Ok, quindi si chiamano anche parentesi angolate perché come nelle parentesi si apre la tonda e si chiude la tonda, qui si apre con il minore e si chiude col maggiore. È chiaro fino qua, è abbastanza semplice. Dentro a un tag ci sono dei tag che possono contenere degli elementi e dei tag che invece non contengono assolutamente niente. Normalmente quando un tag può contenere qualcosa si apre il tag come abbiamo visto, cioè col minore nome tag eccetera eccetera. Poi all'interno del tag si mette il contenuto del tag, cioè quello che viene contenuto. All'interno di un tag possono esserci altri tag, cioè è una cosa ricorsiva, è ad albero. Quindi in continuazione potete mettere un elemento dentro un altro elemento. Ok, poi ultima cosa, quando abbiamo finito con il tag lo dobbiamo chiudere e per chiuderlo si usa minore slash, lo slash è quello sopra il 7, cioè shift 7 per intenderci, quel carattere lì. Attenzione non è quello DOS di Windows che è il backslash, quello al contrario, è quello sopra il 7. Si mette il nome del tag che si intende chiudere, quindi anche in questo caso appiccicato al backslash e poi si chiude con il tag. La chiusura del tag non possiamo mettere nessun tipo di attributo, roba del genere perché è soltanto una marcatura che spiega al browser che abbiamo finito di lavorare con quel tag. Adesso tutti voi dovreste avere ormai creato l'account di Mozilla Thimble. Quindi adesso io faccio il login al mio ok. Allora dovreste ritrovarvi con una pagina come questa, cioè con il vostro il vostro nome qua in alto, il vostro nick qua in alto e la pagina così. Io voglio che voi premiate start a project from scratch o in italiano, non so se c'è in italiano, comunque cliccate qui e ci ritroviamo nella struttura base di Thimble. Ce l'avete tutti? Perfetto. Allora come è strutturato Thimble? Vediamo. Allora sulla sinistra in questa zona avete i file, i file che fanno parte del vostro progetto. Thimble vi fa partire con un progetto semplice che contiene una index html, quindi la pagina html e uno stile per la pagina che si chiama style.css che è il secondo file che vedete qua. In mezzo c'è questa zona qui c'è l'editor vero e proprio di quello che stiamo, su cui stiamo lavorando e a destra in questa zona bianca è il risultato della nostra pagina che verrà modificato in tempo reale man mano che noi andremo a giocare con appunto con la pagina. Qui vedete già dei tag importanti. Adesso li vediamo insieme. Il primo è questo. Una pagina html strutturata in questo modo. La prima riga, la primissima riga senza capi, senza niente, proprio la primissima riga della pagina deve essere il doc type e per fare pagina html 5 dovete scrivere minore punto esclamativo, è una direttiva speciale questa, doc type spazio html maggiore. Dimmi. Non è case sensitive. No, non è case sensitive. Nessun tag in html è case sensitive perché appunto, tra l'altro prima andava di modo a scrivere i tag in maiuscolo e poi le robe in minuscolo. Adesso i tag scrivono in minuscolo. Da quando c'è stato l'x html si scrivono in minuscolo. Comunque scrivetelo così, così funziona di sicuro. Doc type html. Poi subito sotto apriamo il nostro primo tag che è appunto html. Come vedete non l'ho chiuso. Ho scritto tanto minore html. Poi all'interno di html normalmente c'è il tag che si chiama head dentro il quale metteremo degli attributi che stanno in cima alla pagina. Per esempio si mettono i fogli di stile, si mettono lì, il javascript si mette lì, il titolo della pagina si mette lì e altre cose che vedremo. Poi subito dopo head si mette il body. Il body è proprio quello che noi normalmente vedete della pagina html. E quindi ci sarà tutto il body della nostra pagina. Chiuderemo poi il body e chiuderemo l'html. Questa è la struttura super base di una pagina praticamente. Andiamo a vedere questa struttura all'interno della pagina proposta da Mozilla Thimble. Allora vedete che in cima ci sono dei meta. Ok io vorrei... vedete voi? spegnete la luce lì. Comunque dovreste avercela anche voi sul vostro Thimble. Dovreste avere una pagina uguale alla mia in questo momento perché è abbastanza... ok. Allora i meta ve li descrivo eventualmente nella prossima lezione se no non finiamo più. Lasciateli così come sono. La riga dopo vedete che è scritto made with Thimble che è il titolo della pagina. Il titolo non compare nella pagina html eventualmente comparirebbe come titolo della pagina del tab del browser. Ok ma questo in questo momento vi esce Mozilla Thimble perché in realtà questo è un contenuto embeddato cioè all'interno di una pagina appunto che si intitola Mozilla Thimble. Comunque questo è il titolo. Poi che cosa ha messo qui? Questo è un link a una risorsa esterna. In questo caso è il link al nostro style CSS che vedremo fra poco. I link si scrivono in questo modo. Allora dove ve lo faccio vedere? Qua. I link si scrivono appunto... Scusate. Si scrive link. Lo vedete quello che sto scrivendo qua? Qua. Guardate qui. Ma non scrivetelo voi eh. Vi faccio solo vedere la sintassi. link. Poi si mette rel che vuol dire che tipo di risorsa sto linkando. In questo caso sto linkando un CSS. Quindi scrivo style sheet che vuol dire foglio di stile in inglese. Poi si mette href che è il modo con cui lo vedremo dopo. Si fanno i link ipertestuali e qui si mette il nome del file. In questo caso si sta il CSS. E poi alla fine chiudo il link semplicemente mettendo il maggiore. Perché? Perché questo... E vedete che questo link non ha un fine link perché è un link unico. Cioè nel senso questo tag non ha il chiuso tag. In realtà io normalmente il chiuso tag li faccio così. Questo è un retaggio di... Vi faccio vedere così. Con un backslash in fondo. Questo è un retaggio dell'XHTML. Quando si usava proprio l'XHTML per fare le cose dove è vietato avere i tag che si aprono ma non si chiudono. Quindi io li chiudo sempre. E mettendo il fine slash indico lo so che questo tag non andava chiuso ma io appunto col fine slash ti sto dicendo che l'ho chiuso. E questo resta compatibile anche con i parser XML se lo scrivete così. Quindi il mio consiglio è fatelo. Poi non è obbligatorio in questo caso. Bene. Poi come vedete qui si chiude il head della nostra pagina e inizia il body che è proprio il contenuto della pagina HTML che è quello che stiamo vedendo da questa parte. A destra. Nella sezione bianca voi avete nella preview l'HTML di quello che avete scritto nella pagina. In più avete il bottone di questo qui che è di reload per ricaricare la preview nel caso che per qualche ragione Mozilla Pinball non ve lo aggiorni in automatico e due bottoncini che vi simulano il display su schermo cioè monitor del computer oppure telefono. Se cliccate vi appare un telefonino finto con dentro il contenuto dell'HTML che stiamo scrivendo. Fin qui è tutto chiaro? Ok. Allora adesso io vorrei che voi dove c'è scritto H1 fine H1 scriveste questa cosa qui. Benvenuto in timbre. Ok? Dovete averlo come titolo. L'H1 in HTML è un tag che sta a significare un header cioè una testata, un'intestazione come i titoli dei giornali. In HTML ne sono definiti sei. Vanno da H1 ad H. Bravissimi. Facile no? Quindi chiaramente adesso mettiamo anche un H2 per farvi vedere cosa vuol dire. Io vado a capo e scrivo H2. Vedete che mentre lo scrivo Timbal me li suggerisce i tag che iniziano con la H. In questo caso seleziono H2 e poi mi chiude anche in automatico il tag a capo e qui scrivo sottotitolo in H2. Vedete che è più piccolo il risultato rispetto ad H1? Questo qui è più piccolino. Chiaramente se mettessimo anche un H3 ma poi lo tolgo sono un H3. Anche H3 è più piccolo. Se li mettete tutti vedrete che la dimensione del font rimpicciolisce di volta in volta. Dimmi. Come mai quando uno si parte da zero? Allora sì ho capito cosa vuoi dire. Normalmente in programmazione si parte da zero ma tu ricordati che l'HTML è nato come linguaggio di marcatura finisce in mano alle persone tra virgolette normali che non contano da zero come noi ma contano da uno. Quindi si conta da uno anche qua. Ok? Comunque il header 1 è il header più grande della pagina. Anche per un motore di ricerca quando poi indicizzerà la vostra pagina la prima cosa che guarda è proprio un H1 oltre al title. Quindi stiate sicuri di mettere l'informazione più importante del titolo dentro un H1. Poi vedete sotto nel vostro esempio dovrebbe esserci un tag che si chiama P con dentro make something amazing scritto tra strong with the web e poi fine P. Che cosa vuol dire questa cosa? Allora la pista per paragrafo cioè se io voglio rinchiudere un sacco di testo all'interno di un paragrafo facciamo finta io sto scrivendo non so un articolo l'articolo è diviso in paragrafi ok? Quindi io scrivo P e metto per esempio lo indento correttamente ok? E scrivo sono il paragrafo 1 di questa pagina web e poi volendo questo qui sotto lo cancello perché non mi piacciono i suggerimenti ok? Posso mettere un secondo paragrafo sempre con P e scrivo sono il secondo paragrafo. Ok fatelo anche voi mettete due paragrafi perché poi adesso quando inizieremo con i fogli di stile useremo questi due paragrafi per fare degli esempi. Ok adesso vi faccio vedere un po' di tag HTML tra virgolette semplici che però sono molto comodi. In realtà nell'HTML ci sono ma non so quanti tag però se ne usano se no una una quindicina una ventina esagerando perché poi tutto il resto si può fare con i tag base più CSS quindi alla lunga si smette di usare i tag ma si stila tutto si dice tecnicamente. E la cosa che dà più controllo perché poi ogni browser fa un po' come vuole invece facendo così noi sappiamo quello che stiamo come viene renderizzato. Ecco una cosa quando noi scriviamo dell'HTML come in questo caso il risultato come vedete è una pagina che invece è molto più leggibile perché perché il browser prende il nostro HTML diviso in in sezioni semantico eccetera eccetera e si dice tecnicamente che ne esegui il render cioè lo lo interpreta e ci dà il risultato tra virgolette leggibile. Il risultato leggibile è anche il frutto dell'elaborazione dei fogli di stile che stiamo per andare a vedere. Ok abbiamo messo le P allora definiscono i paragrafi. La P non è un tag obbligatorio eh io posso scrivere anche fuori da una P posso scrivere ciao mondo lo scrivo qua vedete che in questo momento il browser me lo me lo disegna esattamente come se fosse all'interno di un paragrafo. Questo è importante però perché è importante perché dentro un tag di tipo body perché alla fine il mio ciao mondo è contenuto dentro a body io adesso qui non posso indentare bene perché ho allargato un po' la dimensione del font per farvi leggere però se chiudo con questo questo bottoncino potete chiudere i tag e vedere solo il contenuto iniziale vedete che ciao mondo fa capo a body cioè io quando chiuderò a body mi sparisce anche ciao mondo ok allora a livello di risultato visivo la mia pagina è esattamente come se ciao mondo fosse dentro un tag di tipo p invece a livello di semantico il mio ciao mondo è al di fuori di qualsiasi cioè per il bravo per non so un motore di ricerca ciao mondo non è scritto dentro a un paragrafo quindi potrebbe essere che il motore di ricerca non lo legga non lo prenda tanto in considerazione questo poi dipende da quello che state facendo poi ci sono delle cose simpatiche da fare con i paragrafi che stiamo per fare fra un attimo ok io adesso ciao mondo lo cancello perché tanto non mi serve vi faccio vedere dei tag interessanti allora apro un'altra p e dentro vi faccio vedere allora innanzitutto per fare il grassetto si scrive così ciao sono in il grassetto si può fare in due modi old style con la b che sta per bold che vuol dire appunto grassetto in inglese e scrivo bold vedete che mi esce ciao sono in bold vedete il risultato ok per andare a guardare questa cosa simpatica se scrivo ciao sono in italico per fare l'italico si mette la i italico e uno cosa notate in questa questa html che ho scritto rispetto al risultato come? esatto che sebbene io nell'html sia andato a capo perché io qua ho mandato un a capo nella pagina invece le cose sono scritte una in fianco all'altra questo perché? perché nelle pagine html gli a capi non c'entrano niente a meno che non sia un paragrafo preformattato ma non l'abbiamo ancora visto quindi in generale 99 su 100 gli a capi vengono ignorati non c'entrano niente quindi esiste un vero tag per mandare a capo le cose il tag si chiama break scritto br e guardate come lo scrivo br backslash già scusate slash fine tag perché? perché br non ha inizio br fine br è un tag singolo e adesso avendo messo il br qui va a capo come ce l'aspettavamo da prima il br io lo metto a capo per leggibilità ma non è necessario io avrei potuto scrivere il br direttamente a fianco qui posso scrivere il br qua chiaramente in questo momento adesso ce ne sono due quindi mi va due a capi però questo lo tolgo era giusto per farvi vedere fin qui tutto chiaro? perfetto ok allora come dicevo questo è il modo old style di fare la taggatura dei bold e dell'italico perché? perché la b e la i i tag presuppongono che io voglia farlo veramente in grassetto oppure che lo voglia fare veramente in italico questo era quello che c'era nell'html 1 2 anche 3 cioè c'è sempre stato però adesso si preferisce un altro stile che alla fine il browser visualizza comunque come bold e italico però ha un significato semantico quindi più importante per i lettori allora vado a capo e scrivo ciao sono in e strong si chiama strong vedete che strong ve lo fa esattamente come bold però strong cosa vuol dire? vuol dire che se per esempio la pagina viene visualizzata per modo di dire visualizzata fruita da un non vedente il non vedente non può vedere i grassetti ma i sistemi che leggono le pagine html si chiama aria riescono a riconoscere gli strong e il tono di voce diventa più marcato quindi leggerebbe ciao sono in strong ok che a voi fa anche sorridere però obiettivamente per una persona che non riesce a vedere anche perché si può usare non per una singola parola cioè io posso scrivere per esempio questa frase e poi metto strong è veramente importantissima punti esclamativi e il motore automatico leggerebbe questa frase è veramente importantissima in maniera che la persona si renda conto appunto dell'importanza di questa frase stessa cosa vale per la i la i non si usa quello che faceva l'italico si usa un altro tag che si chiama m ma scritto e m che sta per emfasis emfasis ok ho dimenticato il br adesso lo metto ecco fatto ok quindi strong e emfasis è il nuovo modo di fare l'italico e il bold quindi io vi suggerisco di non imparare la b e la i ma di imparare esclusivamente strong e m perché tanto voi non dovete imparare come si scriveva l'html vent'anni fa cioè le cose sono cambiate iniziate se iniziate oggi iniziate dal dal nuovo che c'è in questo momento praticamente giusto coach grande ok allora abbiamo visto come fare i grassetti e come fare gli italici sono due dei tag che si usano di più nell'html e abbiamo imparato a fare i paragrafi usando il tag p adesso prima di andare avanti vi introduco perché poi ci divertiamo così un po' di css il css rispetto all'html è tutto un altro linguaggio cioè io oggi qui vi parlerò di due linguaggi contemporaneamente uno è l'html ed è quello che stiamo vedendo adesso e si usano le parentesi angolate e l'abbiamo visto fino ad ora l'altro è il css il css è una sintassi completamente diversa vediamola allora innanzitutto css 3 perché noi partiamo dal css 3 significa cascading style sheet cosa vuol dire cascading style sheet significa fogli di stile a cascata gerarchici perché gerarchici perché noi definendo i nostri fogli di stile all'inizio possiamo definire un sacco di informazioni poi magari facciamo non so il primo paragrafo definisce un sacco di informazioni poi il testo dentro quel paragrafo lo vogliamo in rosso però uguale identico a tutti gli altri attributi che abbiamo messo al paragrafo ridefiniamo solo quello e il browser quando poi ci renderizzo cioè far render del nostro contenuto utilizzerà tutte le regole base che sono già state definite più le modifiche che sono state definite dal nostro foglio di stile a cascata detto così è un po' incasinato dopo quando facciamo gli esempi è facilissimo allora come si fa un foglio di stile allora innanzitutto si userà una regola detta selettore che definisce su quali elementi della pagina gli elementi sono i tag della pagina quella regola che stiamo per scrivere verrà applicata per ora passatemi un po' di teoria poi facciamo le prove allora il selettore può essercene più di uno che applica la stessa regola quindi con la virgola possiamo mettere il selettore 2 virgola selettore 3 virgola quello che volete quando ho finito di definire i selettori si apre la graffa quindi in html si usano le angolate in css si usano le graffe se non sapete fare le graffe perché è un casino normalmente sotto windows è alt grafico shift alt gr shift e aperta chiusa quadra dovrebbe farvi le graffe poi provate funziona? ve li fa le graffe? ok oppure potete fare alt 123 125 che è il modo veramente old style di fare queste cose sotto mac si usa il command di destra shift e aperta e chiusa quadra se vi chiedete perché usano le graffe che sembrano così scomode da utilizzare è perché nelle tastiere inglesi americane è subito lì cioè siamo noi che l'abbiamo nascoste a favore di e accentata o accentata però invece nelle tastiere inglesi è molto comodo come carattere comunque selettori poi si apre la graffa e poi cosa si mette? si mette il nome dell'attributo che sono una sequenza di nomi che possiamo usare nel css sono definiti non possiamo inventarceli ok quelli che ci sono li possiamo utilizzare quindi si mette il nome attributo due punti e poi la definizione dell'attributo il valore appunto quando finiamo di definire il valore si chiude con punte virgola quindi la sintassi è attributo due punti valore punte virgola chiaro? non dimenticate il punte virgola perché moltissimi dimenticano il punte virgola e poi il css non riesce a fare il parsing delle regole sbarella tecnicamente dice sbarella e non vi fa vedere assolutamente niente e lui dice ma io la regola l'ho messa ma non funziona è dimenticato normalmente è dimenticato il punte virgola dentro a un blocco di graffa di una regola si possono mettere tutti gli attributi che vogliamo non solo uno come si fa? si va a capo e si scrive attributo due punti valore attributo punte virgola attributo due punti valore punte virgola attributo due punti valore punte virgola fino a quando abbiamo finito e allora chiudiamo la graffa fine questa è la regola del css adesso torniamo su timbol e proviamo subito perché adesso le cose si fanno divertenti allora facciamo finta che io voglio che tutti gli h1 questo qui è benvenuto in timbol ok gli h1 siano scritti in rosso anziché in nero come si fa? foglio di stile ecco vedete che timbol vi mette già una regola che si chiama body e definisce un font che poi questa regola ve la spiego dopo perché è un po' complessa lo font family noi scriviamo h1 aperta graffa e chiusa graffa ok io di solito apro e subito apro e chiudo subito le regole ecco vedete che cliccando no non lo fa più va bene non lo fa più perfetto secondo voi come si chiama l'attributo per settare il colore di qualcosa poi è non è difficile color color è per il colore in primo piano il colore di sfondo si chiama background color ma comunque noi facciamo color due punti ecco guardate cosa fa timbol vi suggerisce già tutti i nomi dei colori che sono definiti nel web questo è uno standard v3c io di solito metto red direttamente ecco fatto anche perché come sapete i programmatori vedono assidici colori no? c'è rosso verde giallo blu non ci sono le sfumature qua c'erano già troppe sfumature per i miei gusti no? ok vedete che io ho scritto h1 color red e adesso la scritta h1 è diventata appunto in rosso questo è molto comodo perché facciamo finta che un grafico o un web designer vi passi una pagina web che a voi va tutto bene però dovete cambiare per esempio in questo caso il colore normalmente c'è tipo se hai un file in photoshop cosa dovete fare? aprire tutto photoshop andare nel coso e sobrascrivere cioè cancellare il colore che c'era prima e mettere un altro colore e avete perso l'informazione non potrete mai più tornare indietro invece in appunto in html quindi css io potrei inventarmi un nuovo foglio di stile che va a riscrivere soltanto le regole che non mi piacciono è quello del cascading lo vedremo fra poco ok e così tengo tutto quello che c'era prima più delle modifiche mie che però non vanno a toccare il file originale che è una bella cosa così se indomani non voglio più le mie modifiche le cancello e il file lo rivedo come prima allora attenzione vedete questo selettore dell'h1 questo selettore ho scritto proprio h1 perché ho scritto h1 perché se guardate nell'html il mio tag si chiamava appunto h1 questo era un tag definito dal appunto dal v3c dallo standard ad html facciamo finta che io voglio sia gli h1 che gli h2 in rosso io posso scrivere la regola in due modi diversi chi me ne suggerisce una come virgola h2 ha funzionato abbiamo saputello eh naura ok sì è giusto così funziona oppure un altro modo per definire lo stesso coso questo è il migliore cioè io dovessi definirlo definirei così però come potremmo come potremmo anche fare per definire gli h2 in rosso adesso questo lo tolgo così torna normale bravissimo potrei scrivere h2 aperta gra cosa ho fatto scusato sbagliato tasti qui il mac ancora cioè no mi prende in giro tac ah ok ero io ero io ok h2 e scrivo color red un'altra volta allora adesso vi introduco un'altra cosa molto importante dei css e dell'html questi selettori che abbiamo fatto fino in questo momento sono selettori dei tag html veri e propri cosa vuol dire questo che se io dopo voglio facciamo finta che io torno sulla mia pagina e metto una seconda riga di h2 h2 e scrivo seconda riga vedete che anche lei è in rosso magari io la seconda riga è in h2 non la voglio più in rosso la voglio in blu perché ho solo quei 16 colori ma le voglio usare tutti poi la pagina farà schifo le mie pagine io sono tutto tranne un grafico quindi di solito le mie pagine sono penose per quello che vi faccio dare i photoshop e poi li renderizzo però per capirci allora usando una regola queste qui si chiamano regole dirette sul tag la rimetto così perché è più è più leggibile ho l'effetto tra virgolette magari indesiderato collaterale che tutti gli h2 diventano rossi ma io non lo volevo io volevo che solo il primo fosse rosso allora c'è tutta un'altra tipologia di selettori in css che non usano il nome del tag ma usano le classi le classi sono comode perché sono comode perché le inventiamo noi facciamo finta che io come si fa a definire una classe allora io vado nel primo h2 e scrivo class primo proprio class uguale aperte le virgolette primo è un attributo dell'html quello che abbiamo visto prima altro uno uguale vedete che ho messo nome class tra l'altro è un nome speciale infatti timbol me lo colora di viola uguale primo e primo è quello che mi sono inventato io ora vado nel secondo h2 e scrivo class cosa mettiamo qua secondo ok secondo h2 in questo momento guarda un po' sono ancora tutti rossi anche se io ho messo le classi perché perché come vi avete fatto tutti avete scritto classe primo e classe secondo perfetto perché come vi dicevo prima il browser in questo caso Firefox o quello che state utilizzando legge le regole del foglio di stile che è definito qua e dice tutti gli h1 e tutti gli h2 li voglio rossi e quindi lui che cosa fa? ce li fa rossi allora adesso noi andremo a appunto usare il cascading cioè la cascata delle regole per dirgli ok ma il secondo h2 cioè tutto quello che si chiama di classe si chiama secondo lo voglio in blu e allora scrivo anziché scrivere solo secondo non posso scrivere solo secondo perché questa è la sintassi che si usa per rimappare i tag per rimappare le classi si inizia col punto quindi esce punto secondo e comunque il resto è uguale è solo la regola del selettore che è particolare ok si si c'era un fogliato in giro ok punto secondo che cosa scriviamo in punto secondo color due punti blu ok e vedete che adesso il secondo h2 è diventato blu carino no allora detto così per ora non sembra un granché perché chiaramente stiamo ridefinendo soltanto un un attributo del foglio di stile se però noi andiamo qui dove c'è scritto h1 e h2 e dove c'è scritto questa regola mettiamo anche text de text no text shadow no è troppo incasinato text decoration dotted ah non si vede quanti classi ci sono eh le classi sono veramente tantissime come una variata è quasi infinita no non è infinito ce ne sono tante eh e per esempio della lingua cercate di lo chiam primo e non il first allora no attenzione le classi le classi tipo il punto secondo l'ho inventato io tu puoi inventare tutto quello che vuoi quindi quelle sono veramente infinite le classi che definiamo noi devono iniziare con una lettera dalla A alla Z o maiuscolo o minuscola e poi possono esserci anche dentro dei eh come si dice dei numeri e il carattere meno e underscore adesso poi li vedremo le adesso vedete cosa ho fatto adesso adesso ho messo che gli h1 e h2 sono di default sono rossi e sono anche in italico vedete cosa succede nella ridefinizione di secondo nella ridefinizione di secondo io ho il colore blu però mi è rimasto in italico questa è un'applicazione del cascading perché? perché il rosso è stato sovrascritto da blu però il font style italico è rimasto per tutti e tre i tag questo è molto carino giusto? bello no? imparando a usare bene queste regole si scrive poco html e tanto css però i risultati sono molto molto interessanti adesso facciamo un'altra cosa vedete qua abbiamo i nostri paragrafi questo qui ciao sono il paragrafo 1 sono il paragrafo 2 eccetera eccetera cosa voglio fare io adesso? vorrei per esempio però non so come farlo perché devo scrivere tanto testo vorrei farvi vedere facciamo quest'altra cosa qui perché allora adesso mi insegno un trucco che si usa per quando si programma in css ogni tanto le regole non vengono applicate io non capisco perché non vengono applicate allora il trucco che uso sempre io è questo si mette un bordo intorno all'elemento per mettere un bordo intorno all'elemento di solito si fa così facciamo finta che io voglio verificare il su secondo anzi no lo facciamo su h1 e h2 così si vedono tutti gli elementi su quelli a parte qui timble me lo dice perché quando io clicco qua cioè clicco sul su un foglio di stile vedete che mi fa l'highlight dei punti in cui viene applicato in questo momento lo stile ok allora scriviamolo uno su p va io scrivo p aperta graffa e chiusa graffa e facciamo border un pixel solid red punte virgola questa è la mia regola guardate cosa ho scritto è questo il tag cioè il sì appunto la label border è un si chiama una scorciatoia uno shortcut per tanti attributi però io lo posso definire tutto in una volta gli ho detto che lo voglio spesso un pixel deve essere solido cioè quindi una riga continua e di colore rosso perché bravo perché non è rosso perché Thinball mi sta facendo vedere dove l'ha applicato se io solo clicco qua nella pagina diventa rosso perché vedi che fa il rettangolo blu dove lo sta perché Thinball comunque è uno strumento che fa i debug no? cioè serve per aiutarti a fare le cose quindi è chiaro che ti aiuta anche in questi modi va bene quindi questo è un trucchetto perché facendo così io spesso poi quando proprio non vedo niente metto 3 pixel che diventa grossissimo e anziché solid posso mettere dashed ok questo si vede proprio lontano un miglio dove sta applicando la regola e questa riga la potete mettere un po' dove volete cioè se io scrivo pp,h1 lo applica a prendere tutta la pagina ormai h2 tac e via ma questa è un'unice di un'unice di un'unice no allora tutto quello che stiamo facendo noi in questo momento se tu salvassi queste regole e le mettessi sul web lo vedrebbero chiunque è bruttissimo infatti è una regola di debug infatti il modo migliore per farlo in realtà è questo adesso ve lo faccio vedere io cancello la regola ok in realtà faccio ctrl x perché me la taglio perché mi serve dopo e quindi chiaramente la pagina è di nuovo pulita poi vado qua nella sezione files e schiaccio più e metto css il mio nuovo css lo posso rinominare direi di sì dai eh sì dai si può eh sì esatto mi piacerebbe chiamarlo debug mi suggerite eccolo ce l'ho fatta ho cliccato piano piano debug the big vabbè dai the big debug debug ok cancello tutto quello che c'è scritto dentro perché tanto non me ne frega niente e scrivo soltanto p aperta graffa oh questi tasti p aperta graffa ah no ce l'avevo salvato quindi ctrl d perfetto ok vedete che anche se io ho messo la regola quella che avevamo messo prima in questo momento non si vede niente giusto? anche a voi succede così? ok perché succede così? perché il file non è stato letto dalla pagina html siete troppo bravi oggi andiamo molto veloci allora come faccio ad aggiungere questo file? in cima nel head della pagina html aggiungo un secondo link ok attenzione una cosa importantissima i file css vengono letti in ordine dall'alto verso il basso della vostra pagina quindi se volete che una regola vada come priorità sopra tutte le altre lo dovete mettere in fondo perché viene letto per ultimo e quindi è più importante è chiaro? perché per la sovrascrittura degli elementi il vostro ultimo la vostra ultima definizione andrà a sovrascrivere le precedenti quindi il mio link di debug lo metto sempre ultimo ultimo nella pagina così lo so sempre cioè appena prima del head e scrivo debug.css che è il nome del mio file chiudo il tag e tadan adesso finalmente vedo anche il mio debug io ho linkato l'altro css che avevo nel progetto sì questo qua il primo lo ho linkato qua si chiama stylecss è di tipo stylecss è la tipologia del link che stiamo facendo e il secondo href debug css altro trucchetto chiaramente se volete vedere la pagina vera e propria dovreste cancellare questo link no è ancora peggio perché devi continuare a metterlo e toglierlo allora un trucco un po' bruttino ma che funziona benissimo è io di solito aggiungo una x al nome del tag facendo così il tag non esiste più dovrebbe togliermelo dovrebbe ma timbole non lo fa ecco ho voluto fare il reload perché vedete che per un carattere solo non fa il refresh allora il tag è sbagliato non esiste come tag e quindi il browser non è in grado di interpretarlo quindi non mi linka il mio debug io però ce l'ho lì se voglio basta che mi rimetto la mia tolgo la mia x e mi riappare dimmi non c'è modo di metterlo come commento? sì i commenti in html si fanno così però è più lungo da scrivere è solo una questione di in questo momento di debug veloce insomma comunque attenzione ragazzi questo è importante i commenti in html si fanno così e si inizia sempre come un tag quindi minore punto esclamativo meno meno ok lo vedete? si vede? minore punto esclamativo meno meno è questo qua vedete che almeno il mio timbole mi ha ingrigito tutto quello che c'era sotto perché quando lo iniziate potete andare anche cioè questo commento può includere più righe della pagina ricordatevi che le righe le avete perché voi metteteli a capo ma per l'html l'hk non esiste quindi da così per chiudere un debug si fa meno meno maggiore quindi si inizia con minore punto esclamativo meno meno e si finisce con meno meno maggiore possiamo chiaramente includere più righe in questo modo si può anche mettere sulla stessa riga adesso si l'ho messo a capo per farvi vedere ma io per cancellare semplicemente il link di debug lo potevo anche scrivere così vedete tutto in una riga tutto in una riga allora questo è il modo giusto per fare i commenti in html però come vedete è anche un modo lungo se vogliamo soltanto accendere e spegnere una riga di debug mettere una x o quello che volete al nome del tag va avanti ok ricordatevi i browser sono molto tolleranti cioè scrivete delle schifezze normalmente le saltano non vi dicono niente e la pagina in qualche modo qualcosa vedete questo è la fortuna di quelli che navigano su internet la sfortuna degli sviluppatori di quelli che fanno le pagine perché se qualcosa non funziona il browser difficilmente te lo dice e se faremo altre altre giornate di programmazione vi farò vedere gli strumenti che si usano per debuggare questo tipo di errori però in questo momento se siete d'accordo io tolgo il commento fatto così e lo rimetto con la x perché faccio prima tutte le volte devo andare sia all'inizio che alla fine del tag a togliere delle cose qui metto la x ecco fatto adesso chiaramente non me lo refrescia ma io clicco qua e me l'ha raffresciato ok allora adesso vediamo una cosa importantissima praticamente dovete sapere che per il browser esistono soltanto un una tipologia di elemento sembrano tanti ma ne esiste soltanto una con una sola tipologia di elemento io posso fare diciamo simulare grazie ai fogli di stile praticamente tutti gli altri elementi che ci sono nel browser tranne gli elementi di tipo form quelli interattivi quelli non si possono risimulare però il grassetto l'italico tutto quello che abbiamo visto fino adesso lo possiamo fare usando semplicemente del css e il tag per antonomasia il tag più usato che userete in continuazione e vi verrà a nausea che si chiama div ok quindi io scrivo div e poi scrivo dentro ciao sono un testo dentro a un div cosa notate di questo fantastico ciao sono testo dentro a un div no no non dovreste notare niente notate che non c'è c'è nel senso noi abbiamo scritto un div però il browser non ci sta dando dei segnali che c'è un div giusto questo perché un div rappresenta per il browser un rettangolo tutto all'interno di una pagina web è un rettangolo non ci sono linee curve non ci sono quello che volete solo rettangoli tra l'altro non un rettangolo come un altro un rettangolo che come spazio occupa sempre tutta la dimensione in larghezza della pagina come faccio a saperlo facciamo così andiamo in debug css e metto anche i div li metto dentro al mio al mio sistema di di border vado sulla index e mi rincludo il mio link ecco fatto guardate vedete che adesso ho anche il div questo qua che mi occupa tutto lo spazio giusto cosa notate anche del resto della pagina i titoli li hanno presi perché sono h1 h2 h3 si no no il div è a parte e entra nelle altre regole quindi è per quello che si vede così dovreste notare una cosa che sia il div il tag div che il tag p occupano entrambi tutta la pagina in orizzontale questo perché perché il tag p in realtà è un tag div con una semantica di paragrafo quindi la p è soltanto per dire ai motori di ricerca o ai motori di lettura che quello è un paragrafo però in termini di come viene renderizzato sulla pagina equivale a un div quindi attenzione fate molto attenti a quando usate i div rispetto a quando usate i tag diciamo semantici perché il tag semantico aiuta i motori di ricerca a fare un'indicizzazione corretta aiuta i motori di lettura automatica a leggere in maniera corretta se usate i div tutte queste informazioni si perdono è chiaro questo? ok allora altra cosa adesso io mi rimetto così perché non le voglio vedere tutti questi debug ok adesso andiamo nel nostro style css e stiliamo un po' il div vi faccio vedere un po' di comandi allora anche in questo caso non voglio stilare tutti i div quindi io torno in index e scusate e aggiungo div class lo chiamo div1 giusto per dargli un nome quindi div spazio class uguale div1 adesso vi faccio vedere un po' di attributi li usiamo nel div ma la maggior parte di quello che vi dirò si può usare anche in tutti gli altri tag p e gli altri che vedremo dopo span allora punto div1 perché perché ho messo il punto perché è una classe che ho inventato io aperta chiusa graffa allora innanzitutto gli diamo un bordo perché voglio farvi vedere cosa stiamo facendo però un bordo carino questa volta non una roba rossa tutta dotted che fa schifo la scriviamo così border un pixel solid e poi gli do un bel colore ccc allora che cosa vuol dire cancelletto ccc anzi andiamolo ancora più carino c0 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 allora questo valore che ho messo con il cancelletto è un altro modo in html per definire i colori questo è il modo rgb usando i valori in esa decimale ogni coppia di caratteri possono andare da 0 0 a ff esa decimale ok che equivalgono a dire che va da 0 a 255 in decimale per chi di voi ha mai usato un programma di grafica vediamo se c'è qualcosa qua vabbè un programma di grafica qualsiasi avrà visto però è strano che non abbia va bene non ce l'ha avrà visto questi valori le triplette rgb ok i primi due caratteri sono la r gli altri due sono la g e poi gli ultimi due sono la b un altro modo per scrivere questa cosa è questa border un pixel solid rgb proprio scrivere rgb aperta tonda e gli diamo i valori rgb direttamente tipo 200 virgola 200 virgola 200 gli spazi li metto io per leggibilità ma non sono obbligatori in questo caso vedete come è sui tre valori uguali vuol dire che r vale 200 in decimale g vale 200 in decimale e b vale 200 se ne cambio uno per esempio metto r lo metto a 100 guardate cosa succede nella mia vedete che sta intanto sul verdino ma io poi c'ho anche se non è un po' daltonico però si è un blu verde acqua giusto? ok mettiamogli tipo 5 pixel così si vede un po' meglio se no non si vede niente vedete? ok quindi qua uno può giocare con i colori ci sono dei sistemi online tipo questo qua fatemi vedere color picker online eccolo qua il color picker questo qui ok questo qua è molto comodo no? per esempio qua ci sono dei valori già definiti se no io seleziono qua quello che voglio vedete che qua a destra mi appaiono i valori rgb in decimale e qua in cima rgb in decimale quindi se io voglio facciamo finta che voglio un arancione schifosino tipo questo io poi vado qua faccio il copia di questo valore d6ab1e torno qua e anziché scrivere questo io scrivo d6 bla bla questa riga chiaramente la tolgo se no mi basta scrivere la precedente se guardiamo vedete che adesso è uscito con questo arancino un po' schifosino ok vedete? quindi usate il programma che volete per definirvi i colori ci sono anche dei plugin per chrome e per firefox che lo fanno e vi basta quello per scegliere i colori che volete allora comunque noi abbiamo messo rimettiamo un bordino carino quindi io gli metto c0 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 ok e gli metto uno di pixel poi adesso un'altra cosa che non mi piace il testo è appiccicato ai bordi a me questa cosa dà sempre fastidio ok allora voglio allontanare i bordi come si fa? il comando si chiama padding padding e gli do quanti pixel di distanza sopra sotto testa e sinistra voglio per esempio 8 pixel per farvelo vedere bene vedete? che adesso il testo si è allontanato facciamo anche una cosa qui faccio guardate cosa c'è qua in alto c'è una definizione di body all'interno del nostro foglio di stile css body è tutta la pagina html cosa ha fatto questa regola? setta il font che si chiama open sense a tutta la pagina a me va bene non voglio cambiarlo però faccio anche un font size che vuol dire dimensione del font mi metto non so 20 pixel come viene è un po' più grossissimo ma non tanto mettiamola un po' di più ancora 30 pixel oh bellissimo troppo 25 pixel ecco fatto quindi adesso voi dovreste leggere meglio alla lavagna giusto? perfetto tornando a noi allora questa apre un argomento di cui volevo parlare in una prossima volta ma visto che l'abbiamo appena affrontato lo guardiamo ci sono varie unità di misura nelle pagine web il discorso è se io uso tipo un font size 25 pixel in questo caso qua in alto e poi dico che il padding è 8 pixel chiaramente il padding è un terzo dell'altezza di un carattere mentre prima che il padding cioè il font era 15 era quasi un intero carattere quindi un modo migliore è non usare unità di misura in pixel soprattutto per il fatto che adesso voi non sapete più dove vanno a finire le vostre pagine prima era sempre su un computer in generale adesso invece le pagine finiscono su un cellulare i cellulari hanno dimensioni di pixel in base alla densità dello schermo sapete che ci sono i display brutti poi ci sono quelli un po' più carini il retina il full hd il 4x eccetera eccetera no? ok allora c'è un intero di misura che a me piace un sacco che si chiama m scritto em che sta per la dimensione di una m minuscola non sto scherzando ok allora se io dico 0.5m è il browser che fa i conti in base alla dimensione del font di default ok quindi gli ho detto voglio una distanza dai bordi di mezza mezza m minuscola è molto carino sopra sotto sinistra destra vedi che l'ha fatto anche a sinistra chiaramente a destra non si vede perché c'è tutto il div e quindi allora se dico questo non verrà il campo del sole certo no no allora i div occupano la dimensione in orizzontale massima della pagina quindi se c'è più testo il testo va a capo e il div si allarga in verticale ok allora anche questo allora per me faccio a dire il mio padding in dimensioni diverse per alto basso sinistra destra ok questo è un bel problema no aspetta aspetta perché si chiama perché si chiama problema perché per ricordarvi come si fa dovete ricordarvi trouble in inglese perché perché padding che abbiamo usato è una scorciatoia cioè da un valore solo lo applica a tutti e quattro i lati se voglio invece controllare ogni singolo lato si usa appunto il trouble perché il primo è il top quindi t poi la regola è per right r poi la b di bottom e la l di left trouble ok quindi io posso anche scrivere così padding e posso mettere non so un m quindi in alto un m ok poi spazio r quindi in questo caso r posso mettere quello che voglio tanto non si vede 0.5 m poi b di bottom 4 m e left 2 m ok vedete che con la regola del trouble trovo uble si perché li devi mettere in questo ordine quindi top right bottom e left ok il trouble c'è un altro modo se volete essere più espliciti potete scrivere anche così padding meno top per il top in questo caso metto 2 m ecco vedete che io prima avevo definito che il padding era 0.5 per tutti la regola l'ha applicata poi che cosa fa dice ah ce n'è un'altra di regola che mi dice che io devo mettere 1 0.5 4 e 2 e lo fa quindi il top era 1 in questo momento poi cosa è successo che io ho deciso che solo per il top mettevo 2 m e quindi alla fine le regole sono state sovrascritte una alla volta fino ad arrivare ad avere il top a 2 m facendo padding meno top io tocco soltanto il valore di top gli altri 3 valori non li sto toccando stessa cosa c'è indovinate cosa c'è per il basso botto perfetto e metto era 4 m se metto 1 m vedete che il div si rimpicciolisce ma adesso mi viene questa domanda ma se io voglio che il mio browser mi faccia scorrere non vada a capo scorrere cosa vuol dire il testo che cioè tu vorresti che un testo anziché andare a capo scorra in orizzontale in automatico non si adatti alla risoluzione della pagina ok possiamo fare anche questa cosa qui allora ci sono dei momenti in cui magari lo potresti volere adesso lo facciamo ok non volevo spiegarvelo questo no nel senso la cosa che prima di più a me è che voi facciate delle pagine che si adattano a qualsiasi dimensione di schermo esempio se io adesso clicco qua sul modalità vedete che si legge ancora molto bene ok e vedete che ciao su un testo è andato a capo dentro a un div però i bottom i margini eccetera che avevo messo li ha mantenuti no questo è importante perché ribadisco ormai non sapete più se che device l'utente andrà a leggere la vostra pagina però è anche per sapere cioè dire vabbè adesso che io so questa cosa io invece per semantica voglio che se mi piccela leggere ma ci sono dei trucchi anche per mettere del testo che poi in realtà non si vede proprio cioè altre cose dopo lo vediamo quella cosa lì ok allora abbiamo messo i padding adesso io però vi tolgo questi due qua gli ultimi due e lasciamo il trouble che secondo me va bene però anziché 4m mettiamo 1m ok bene altra cosa che voglio fare io non voglio che il mio che il mio div abbia gli angoli così tutti dritti che sono brutti li voglio con i bordi arrotondati perché mi piace ok io scrivo border meno radius si dice border meno radius non so 4 pixel no sono troppo pochi non si vede 20 pixel ok vedete che adesso il mio div ha gli angoli curvi secondo voi come faccio ad avere un angolo curvo si uno retto uno più curvo e uno meno retto il trouble cioè ragazzi una volta che capite i concetti base il css è tutto uguale bisogna solo capire come si chiamano gli attributi e che valori si possono dare ma le regole sono sempre quelle e questo è il bello e io scommetto chi è che di voi ha fatto css ha studiato un po' di css ok nessuno ma non ve lo spiegano mai il trouble mai non è una cosa vi dicono la posizione 1 la posizione 2 la posizione 1 deve andare in memoria è un casino e non vi dicono neanche che sono le stesse cose applicate in tutte le regole e cioè non ce ne sono tante cose da ricordare sono poche basta sapere cosa ricordare insomma questi sono importanti allora facciamo finta che allora il trouble parte da in alto a sinistra in questo caso non è top è top left e poi si gira tutto intorno ok quindi io faccio border radius esempio 5 pixel spazio 20 pixel spazio 50 pixel 0 pixel uh vedete 5 pixel è questa prima curvettina qua che quasi non si vede dove c'è il mouse poi 20 pixel è in alto a destra poi abbiamo messo 50 pixel che fa un super curvone e poi l'ultimo 0 pixel quindi torna all'angolo retto allora queste cose le hanno introdotte nel CSS perché c'è stato un periodo se vi ricordate che andavano di moda tutte le cose tondeggianti quando l'hanno messo è uscito Windows 10 tutto rettangolare di nuovo e quindi allora io vi dico vanno bene per esempio se voglio fare un bottone un bottone lo posso fare con un div e gli do degli angoli un po' rotondini ok normalmente io lo metto sempre un po' di radius è come mettere un pizzico di qualcosa nel vostro piatto ma non troppo non si deve vedere cioè il dettaglio la perfezione è nella cosa che c'è ma non è invasiva quindi di solito metto due pixel quattro pixel proprio una stupidata che ammorbidisce il contorno ma non non influenza questi sono i grandi stilisti lo fanno ok allora il border radius abbiamo visto poi qual'era l'altra grande cosa che ha fatto impazzire il web per anni voi non lo sapete ma noi abbiamo inventato un sacco le world art no noi abbiamo inventato un sacco di trucchi per farlo e adesso non le vuole più nessuno ma no più nessuno beh ve lo dico io le ombre c'è stato un momento in cui tutti i box avevano l'ombra sotto non si poteva fare si facevano 4 o 5 immagini che smettevano una sopra l'altra si allungava adesso si può fare in due secondi come si fa? così border no scusate box meno shadow box shadow mi fa un'ombra intorno al appunto al div ci sono vari parametri da dare vediamoli io comincio a dire 4 pixel 4 pixel 8 pixel e poi il colore r g v oh eh fantastico mi piace questo ok allora cosa sono questi valori allora box shadow ha dei valori che sono abbastanza complessi è già un tag particolare ve lo faccio vedere perché a me le ombre piacciono ancora non le uso più così tanto però le uso e beh l'ho messa rossa per farvela vedere ma di solito si mette nera cioè quindi poi si si blurra come si dice in termini tecnico trano i grafici non sono un grafico sono tre colori quindi no però allora cosa vuol dire i primi due 4 pixel 4 pixel sono la distanza in x e in y a partire dall'angolo in alto a sinistra del rettangolo dove stiamo facendo l'ombra facciamo un esempio se io metto 0 pixel 0 pixel vedete cosa sta succedendo che l'ombra è andata sotto il secondo il terzo parametro 8 pixel è di quanto si propaga l'ombra sfumando eh sì io in inglese c'è blur ok io in italiano photoshop non l'ho mai visto quindi se metto 16 vedete che si estende ancora di più ok se metto 50 aspetta semacolo allora attenzione io qui sto usando i pixel però in realtà poto usare anche gli em 50 em sono 50 caratteri eh cioè diventa ecco appunto è ingestibile però mi posso mettere 4 em bene e poi c'è il colore cc 00 oppure non so se metto tutto nero esce così quindi può essere usata per fare degli effetti normalmente puoi usare i codici colore sì i codici colore che metti in CSS sono sempre in quelli tre formati che ti ho fatto vedere o con cancelletto rgb in esodecimale o con rgb oppure anche questa qui oppure con nomi tipo red black yellow tutte le robe che ti ho fatto vedere io qui scrivo yellow c'ho un'ombra in giallo fantastica questa è proprio brutta però è per capire comunque io li ho visti dei siti web che avevano le ombre fatte così questa è proprio bellissima e mettiamolo black allora io ci metto un'ombra molto bella che mi piace che è tipo mettiamo 8 16 pixel e poi gli mettiamo 4 e 4 ma non è che c'è anche un altro valore no infatti no no mettiamolo un po' più sfumato 32 pixel ancora un po' di più ah perché è black black non va bene ci vuole un il mio solito C0 C0 ok però se mettiamo l'ombra il bordo deve essere un po' più marcato se no non si vede così eh che CSS rendete conto che normalmente queste cose prima del CSS si dovevano fare in grafica in Photoshop in continuazione uno andava a definire tutte queste aree poi ci si scriveva dentro il test in modi strani poi andavi dal cliente il cliente diceva lo vorrei un po' più rosso e tu ti sparavi perché devi tornare in ufficio prendere Photoshop rinaprire il file cambiare leggermente il rosso gli dobbiamo rimanere no era più bello prima e allora ok invece adesso direttamente dal cliente uno apre il foglio di stile e dice quanto rosso lo vuoi track e te lo faccio vedere ok si bravo allora trouble può essere usato io allora io vi faccio vedere normalmente i tag e gli attributi in versione scorciatoia perché perché normalmente uno quando mette un board lo mette uguale per tutte e quattro le parti no però si puoi scrivere border vedi c'è anche tipo border bottom border top eccetera eccetera io posso fare border top 5 pixel e vabbè in questo caso con l'ombra eccetera si comincia a perdere un po' di solid eccolo ok quindi solo per il border top io sto mettendo queste regoline un po' particolari si possono fare queste cose infatti poi se volete la settimana prossima vediamo dei trucchetti molto carini per fare degli effetti tipo il bottone che quando lo premi cambia colore eccetera eccetera si possono fare delle cose carine senza scrivere codici javascript praticamente border top adesso lo tolgo allora quindi qui abbiamo visto un bel div che adesso ha tutti questi attributi ora facciamo finta che io voglio fare facciamo un bottone allora io torno in html per fare un bottone si può fare in due modi il modo giusto è button il tag si chiama button ok e scrive ciao sono un bottone lo vedete qua il mio bottone cosa notate nel mio bottone che non ha uno stile è abbastanza giusto ma non è esattamente così uno stile ce l'ha però appunto non rientra nelle regole che avevamo messo prima vi ricordate quando vi ho detto che con i div potete fare praticamente tutto tranne le parti interattive il bottone rientra in quelle parti che normalmente non si stilano in questo modo questo al mio avviso a livello di foglio di stile è un baco delle specifiche cioè io non l'avrei fatto così io se metto che il body di una pagina è tutto 30 pixel anche il bottone deve avere l'altezza del font in 30 pixel non lo sta facendo ma è questo che è un baco come si fa a risolvere semplice io oltre a body qua in alto scrivo virgola button eccolo qui e guardate il nostro bottone è diventato magicamente un bottone grosso con il font giusto ha applicato adesso anche a lui viene applicato la regola la regola del font che è specificato dentro a body però questo ribadisco secondo me è un baco perché tutta la pagina ce ne sono altri di tag che non rispettano il cascading ok adesso voglio fare un bottone uguale uguale però usando un div quindi io cosa faccio torno nel index e scrivo anziché button scrivo div class e la chiamo bottone potrei chiamarla anche button però poi facciamo dei nomi che somigliano agli altri e scrivo ancora ciao sono un bottone ecco vedete che chiaramente viene renderizzato in modo completamente diverso allora guardiamo insieme le caratteristiche del nostro div cioè del nostro bottone che c'è sopra come è fatto il nostro bottone chi mi dice quali sono le sue caratteristiche innanzitutto mettiamoci il nostro foglio di serie che si metterà appunto bottone aspetta che lo metto lo scrivo in alto così lo vedete tutti in alto qua ok come è fatto il bottone vero guardatelo che cos'ha bravissimo iniziamo dal border ok border un pixel direi perché non è sicuramente più di un pixel solid e poi gli diamo io direi un c0 c0 vediamo se ci sta sì è abbastanza giusto vedi anche i programmatori del web usano i miei colori ok poi che cos'altro vedete bravo spaziatura a sinistra e destra io direi più che alto e basso perché alto e basso mi sembra che ci siamo come pixel ok quindi cosa diamo datemi la sintassi del border scusate il border del padding come lo scriviamo? 0 pixel no va bene poi sì qui non lo sappiamo 5 pixel 5 pixel 0 pixel ok perché esce così? ah perché ho sbagliato io 0 e 5 eccolo qua non era proprio 5 probabilmente è 7 questo è un esercizio cioè nel senso normalmente non si fa una ricopia sparo paro della roba giusto per farvi vedere come sto lavorando allora nessuno ha notato che mentre stavo scrivendo il secondo valore di padding il bottone nel testo si stava già spostando questo perché non vi ho spiegato cioè oltre a travel c'è anche però io non lo uso mai ok cos'è vuol dire che con un parametro io setto top e bottom e con la t e con la l setto left e right ok quindi in realtà potevo scriverlo stesso risultato padding 0 pixel 7 pixel è identico ok non lo uso mai perché si perde di leggibilità secondo me quindi o usate quello un solo valore per tutti e quattro o li esplicitate tutti e quattro consiglio eh poi fate quello che volete però io faccio così ok quindi adesso c'è ancora una cosa ah due in realtà eh lo sfondo lo sfondo e il bordo lo sfondo è sicuramente un grigino quindi scriviamo background color e gli mettiamo è un po' più chiaro di c0 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 sarà tipo d0 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 no no d d d no e e e non riesco vabbè dai facciamo finta no ff è bianco se è bianco non va bene f di d eh no cioè ci vuole su me è tipo e e basta va bene mettiamo e9 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 non è identico ma fa niente ok l'ultima cosa è che il nostro div occupa tutta come abbiamo detto occupa tutta la pagina in orizzontale e questo è normale perché tutti gli elementi occupano la pagina in orizzontale a meno che non gli diciamo di occupare soltanto lo spazio che gli serve come si fa? si fa con display cioè l'attributo si chiama display non display eh display allora di solito si usa in line dovrebbe funzionare esatto vedete che adesso il nostro bottone è a fianco a ciao sono un bottone perché l'ha attaccato visto che il vero bottone occupava soltanto un pezzettino si vedeva dal bordo qua avanzava un sacco di spazi il nostro nuovo div che fa finta di essere un bottone è grosso più o meno cioè occupa meno della riga orizzontale quindi viene stato spostato in alto perché ricordate che gli a capo non esistono ok e da qui si vede per esempio che in realtà c'erano qualche bordino in più probabilmente era un 777 cioè un padding tutta 7 no è troppo 7 2 si 2 ci sta ok poi io sto notando anche che è leggermente spostato verso il basso sembra che sia un pixel più in basso rispetto all'altro non voglio non stiamo qui ve lo farò vedere ancora una cosa prima di andare a casa allora quando io schiaccio il bottone vedete cosa fa cambia di colore giusto? quando io schiaccio il div non è un bottone sto facendo finta di fare un bottone ma non è un bottone allora per fare questa cosa qui bisogna usare le pseudoclassi si chiamano ok è una cosa un po' avanzata io oggi non vi faccio vedere il click perché il click è un po' più difficile facciamo finta che quando il mouse ci va sopra noi cambiamo il colore dello sfondo come se stessimo premendo il div ok allora per farlo si scrive così guardate punto bottone quindi faccio un'altra regola nel css punto bottone due punti h over che vuol dire il mouse c'è sopra over ok e faccio background color e gli metto mettiamogli un colore di questi già definiti ciano ecco fatto vediamo se funziona vedete quando ci passo sopra adesso diventa ciano stavo per dire azzurro perché è uno dei 16 colori che ho il ciano non ce l'ho ok allora che cosa vuol dire questa regola vuol dire che viene applicata esclusivamente quando il mouse finisce sopra all'elemento appunto è un over ce ne sono altri allora anche questi pseudo elementi sono stati introdotti perché all'inizio si facevano tutti questi trucchetti con il javascript cioè vi ricordate le pagine super pacchiane dove ognuno spostando il mouse le robe continuavano a cambiare forma una volta che l'hanno messo nel css hanno smesso di usarli anche questi però ci sono e usati bene danno un buon feedback all'utente ricordatevi però per esempio che l'over non funziona se sono su un cellulare perché col cellulare non puoi andare con il dito sopra senza aver cliccato le tempistiche per sì sì le puoi fare ma ci vogliono le animazioni quelle le vediamo un'altra volta perché solo quelle richiedono un'ora di spiegone però si possono fare anche delle cose dimmi è differenza tra un bottone e un libro un bottone si schiaccia o non sta giusto mi puoi rimandare già un link e dire no esatto lo puoi fare in due modi però nel senso il bottone a livello semantico sta dicendo al browser che è un bottone per esempio i sistemi quelli di lettura automatica per non vedenti di cui parlavamo prima per esempio quando vedono dei bottoni magari ti li mettono in cima ti dicono esatto dove vuoi andare c'è il link alla home c'è il bottone questo il bottone è quello te lo dicono perché magari l'altro non vuole mettersi lì a scorrere tutta la pagina per cercare i bottoni da lì si è uscito il controllo vocale no non c'entrano niente assolutamente si attenzione non confondere una cosa tipo Siri con una cosa che deve permettere al non vedente di fruire dell'informazione più importante della pagina e poi spostarsi rapidamente cioè facciamo un esempio io vado su un sito di notizie online un giornale repubblica libero quello che vuoi no allora vado su repubblica se tu hai presente escono 25.000 aree con piccoli inizi di notizie e la notizia principale è in mezzo io non so come è fatto il sito di repubblica ma io quello lì avrei taggato article che è un tag particolare quindi aria cosa fa mi legge l'h1 di article e il testo e poi mi metti i bottoni cioè vi dice dove vuoi andare io dico articolo successivo e lui mi sposta all'articolo successivo cioè non lo posso fare anche io che ci penso sì lo puoi fare anche tu ma il controllo vocale che stai dicendo tu è un controllo di navigazione e basta invece quello se io non vedo niente le cose che mi interessano di più sono la notizia e poi dire cioè mi sposto con il tasto e la freccia dopo mi deve essere già il bottone che mi sposterebbe alla notizia successiva se c'è già questa tecnologia perché non la stanno sviluppando allora ti dico non è che non la stanno sviluppando è sviluppatissima adesso la tecnologia aria il problema è che non è supportata cioè trova delle persone che fanno i siti web che sono aria compatibili sono difficilissime da trovare ci sono però per esempio anche i nostri siti i siti che sviluppo io normalmente non stanno così attenti ad aria perché devi veramente usare degli accorgimenti che richiedono veramente troppo tempo e poi ti dice cosa lo faccio lo faccio per non so l'1% dei visitatori ah beh lo faccio perché secondo me un giorno l'attività non c'è tutta la messa di macchina che dà il telefono di fare delle cose certo e quindi già si dà un linguaggio ma il linguaggio l'ho già creato esatto il linguaggio è già uno standard è uno standard v3c però quello è bello c'è già un dizionato si esatto esatto va bene comunque abbiamo avete visto che con un po' di regole css abbiamo simulato un bottone quindi all'occhio dell'utente questo bottone vero e questo vabbè non è identico perché adesso poi vi confrontate una fianca all'altro ma se vi tolgo il bottone non lo riconoscete più l'altro che non è un bottone per davvero e uno dice ah ok ma io questa cosa la posso fare soltanto sui div no nel senso che dal momento che tutto quello che è all'interno dell'html a livello di semantica alla fine è un div è un rettangolo lo posso applicare anche in altre parti guardiamo facciamo un terzo bottone il terzo bottone lo facciamo con la p perché abbiamo imparato p per ora metto class bottone quindi sto applicando la stessa classe che ho definito la sto applicando a un tag di tipo p e scrivo bottone con p vedete è uscito esattamente come tutti gli altri bottoni carino eh quindi questa è la potenza del foglio di stile le regole si applicano a tutti gli elementi che sono di tipo cioè questi tipo che siano rettangolari quindi la mia regola del io ho usato un div potevo usare una p avete visto che funziona allo stesso modo entrambi mi generano a livello grafico una cosa che somiglia a un bottone l'unico bottone che c'è in questa pagina è il tag button gli altri due no però a livello grafico io l'ho fatto ho definito una regola la sto applicando ovunque se vogliamo proprio essere esagerati e torniamo nel nostro style e anzi no scusate nella nostra pagina index html e vado nel secondo h2 e scrivo questa cosa ho scritto h2 class secondo dopo a secondo io metto subito uno spazio e scrivo bottone quindi è secondo bottone ok vedete cosa fa seconda riga che era è diventato blu perché il colore era quello che avevo specificato italico perché quello che sono gli h2 e gli h1 tutti però a forma di bottone è molto potente questo vedete la potenza del cascading all'inizio non riuscivo a farvi degli esempi decenti perché avevamo visto tanto background color e color ma adesso cominciamo a vedere un po' di attributi vedete che potete trasformare quello che volete se fate delle regole abbastanza generiche un po' ovunque anche il mio tag ad esempio qui ho scritto ciao sono in bold in bold metto class bottone anche il mio bold è diventato un bottone tra l'altro a tutti funziona il fatto che se ci passo sopra il mouse diventano ciano questo è potente cioè io non sto scrivendo niente e domani ho deciso che il mio cliente dice il ciano mi fa schifo voglio un altro colore ci vuole una giornata per mettere a posto qual è il nuovo colore che vuole mettere il bisque mettiamolo bisque ecco fatto guardi tac tac va bene così sì va bene ok ci ho messo un giorno a farlo tutta la grafica tutto dappertutto ok l'unica differenza che vedo ancora tra il nostro bottone e il bottone vero è che se notate tra il primo bottone e il secondo finto c'è uno spazietto mentre invece tra ciao sono un bottone e bottone P sono appiccicati allora manca solo un'ultima cosa nel nostro definizione di bottone introduciamo un altro comando che si chiama margin allora mentre il padding è all'interno del rettangolo del nostro divo quello che è il margin è all'esterno del rettangolo margin supporta il trouble come tutti gli altri quindi io però uso già la forma estesa e faccio margin in cima sopra e sotto gli do un pixel perché comunque vedete che che c'è una una distanza e poi gli do cinque pixel in orizzont non troppi tre pixel in orizzontale un pixel e tre pixel ecco qua no è ancora troppo poco saranno due 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 e due tre quattro ok quattro quattro tre quattro tre in realtà non penso che sia fatto così perché ciao sono un bottone il bottone è vero è allineato a sinistra con il div quindi probabilmente a sinistra non ha non ha il margin trouble trbl questo qui è zero pixel ok e invece la r sarà un 6 pixel 8 pixel ecco qua vedete che adesso sono uguali le distanze tra ciao sono un bottone quello vero la distanza che c'è qua è praticamente identica ciao sono un bottone e bottone p la distanza che c'è qua in mezzo finalmente ce l'abbiamo fatta così è identico e ancora troppo in alto 6 7 spiegati il concetto di formattazione in che senso c'è su word lo metto in maiuscolo e poi lo metto in maiuscolo e poi lo metto in maiuscolo e poi lo metto in inizio in solare si ci sono quelle cose lì tipo la prima lettera in maiuscolo eccetera eccetera si le vediamo dal prossimo giro perché sono proprio specifiche che non si usano praticamente mai no no è troppo è troppo specifico devi ci sono dei sistemi per fare il layout della riga però vanno scritti in maniera un po' più un po' più complessa praticamente ok ecco però uno spunto me l'hai dato probabilmente la scritta ciao sono un bottone nel bottone centrata mentre queste qua non sembrano centrate al 100% allora facciamo sempre nel bottone text align iniziamo i dry center ok ecco fatto adesso è sicuramente centrato anche nel nei bottoni bene domande fino a qua hai capito tutto coach hai visto che abbiamo fatto di entrare un bottone anche seconda riga e anche bold sono tutti bottoni questo qua hai messo il cancelletto ah l'over allora bottone hai scritto punto bottone poi il due punti appiccicato over con l'h aperta chiusa graffa background meno color due punti e hai messo un colore hai messo un uguale solo i due punti l'uguale non si usa mai ecco come ti chiami scusa si Matteo mi ha dato uno spunto io vi ho detto prima che quando c'è un errore in javascript poi il sistema va scusate in css non è detto che poi il resto venga passato correttamente facciamo finta che io perdo questo punte virgola quello del border del bottone lo lascio così beh si è comportato comunque abbastanza bene facciamo più facciamo più danni però non so come io ho difficoltà a fare i danni facciamo così tolgo la graffa qui ok ho tolto la graffa beh qui chiaramente Thinball mi viene in aiuto perché vedete che bottone ha cambiato colore ma c'è la console di errori c'è la console di errori ma non sui css no sui css non c'è però avete notato che togliendo questa graffa non si vedeva neanche più il div con l'ombra e perché? perché non riesce più a passare niente praticamente no? quindi dimenticare una graffa è male ok è come incrociare i flussi e ok allora ti riesci a dirtelo perché altri linguaggi tipo il C++ ha una cosa che si chiama un compilatore il compilatore analizza il testo prima di eseguirlo mentre invece queste cose vengono eseguite al volo on the fly no non si può compilare ci sono dei tool online dove tu gli dai css e ti dice gli errori di sintassi si chiamano lint sistemi css tra lint html lint javascript lint titolo lint le cerchi ne trovi quanti ne vuoi poi in realtà per gli sviluppatori ci sono anche dei sistemi per testare queste cose anche offline eccetera eccetera qui è un po' cioè era introduttivo quindi non volevo ok ultima cosa facciamo finta che io voglia salvarmi il progetto con Thimble vedete che qua in alto in alto c'è scritto untitled project io clicco e cambio il nome e lo chiamo lezione ciao lezione 1 ok ora la nostra pagina è così bella che la voglio pubblicare ok scusate ma è tanta roba c'è il tasto publish no ma va bene che così c'è il tasto publish io se clicco publish scrivo prima lezione di Mozilla Thimble publish uh emozione guardate questo qua è il mio link adesso io copio questo link vado su un nuovo tab lo incollo dove sta lo stab sul cloud front vedi c'è scritto ok questo qua è quello che abbiamo realizzato attenzione che tutto quello che realizziamo in Mozilla Thimble è appunto remixabile da altre persone quello che abbiamo visto oggi è un esempio cioè abbiamo fatto una schifezza però se andiamo avanti faremo sicuramente le cose molto simpatiche e vedo non vedo perché le altre persone non debbano usarle quindi se io se voi pubblicate le cose e poi condividete il link io arrivo da voi schiaccio remix e mi prendo il progetto mi viene copiato nel mio account e posso elaborarlo come voglio e questo è molto simpatico e comunque potete fare delle pagine web posso dire singole o anche più complesse e utilizzare Thimble per la pubblicazione senza aver bisogno di wordpress o roba del genere chiaramente ribadisco sono piccoline queste cose che potete fare però sono carine praticamente ok ragazzi io per oggi mi fermerai qui perché tanto mancano dieci minuti un quarto sì certo il body questo tag qui è il body come abbiamo visto nell'html è il tag che contiene tutta la pagina quindi io voglio cambiare il colore di sfondo del body io scrivo così però qualcuno mi spieghi perché lo sto facendo perché non l'ho messo sopra no scusate non è color è background no allora no red direi che non lo facciamo 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 f0 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 dai quasi bianco anzi rgb abbassiamo qui a 00 beh già non lo conosco c0 ok giusto per far vedere che c'è il colore praticamente allora perché l'ho scritto qua e non l'ho scritto qui perché qui nella mia regola ho messo anche button no quindi se avessi messo questa regola di background color anche il button vero solo lui sarebbe diventato giallo perché le applicava anche lì la regola invece io la tolgo da qua e quindi aggiungo regole soltanto per il body in un altro in un altro selettore dove ho scritto solo body praticamente poi facciamo finta che a me però alla fine questo colore giallino non mi piace assolutamente ma il sito l'ho scaricato da internet non lo voglio toccare vado in un secondo foglio di stile in questo caso uso debug perché ce l'ho già pronto e scrivo body background color white e ancora non cambia perché se vi ricordate nella pagina abbiamo scritto link x tolgo la x ricarico ops e avessi tutto il debug no allora non è una buona idea però comunque l'idea è questa cioè ti faccio così ah ecco mentre in html i commenti si fanno in questo modo abbiamo visto punto esclamativo cioè minore più esclamativo meno meno in css si fanno come in c quindi slash asterisco asterisco slash